Noi oggi siamo qui per festeggiare il mio innamoramento. E' una persona decisamente speciale. L'uomo più dolce che ci sia su questa terra. L'uomo? E' lui. Cosa? E se fa qua la mano di... Oddio, mi sento male, ferma! Papà, ma chi sono queste persone? Sono la famiglia dell'uomo che intendo sposare. E' così, no? Fammi parlare, fammi spiegare. Tutto è calmo, tu. Tu va bene. Ma tu fai più a sto cazzo. Piano col bananone che se buca è finita la vacanza. Quindi sei già se maschio o femmina? Sì, femmina. Sashimi, la chiamiamo sashimi. Ce li hai visti come se sono, no? Lazio! Forse in Lazio! Non c'entrano niente l'uno con l'altro. Quindi che vuoi fare? La papà zoppa al matrimonio? No. Sì, fa molto zoppa al matrimonio. Ma che sei a fare, papà? Te riconosco più. Mi sta a mettere in discussione tutto per te. Per una volta nella vita, guarda d'intorno. Lui è tuo padre. Non lo puoi cambiare. Io sono distrubbata perché voglio una famiglia normale. Ma lasciati sorprendere ogni tanto dalla vita che è bella, lo sai. Io sono distrubbata perché mio padre ti voglia sposare.